Precisazioni da fare da parte della Saga sulla trasparenza e su accuse che in qualche modo vanno a ledere l'immagine del lavoro che si fa all'interno dell'aeroporto. Una normativa in realtà che tutela quello che è stato il lavoro fatto fino ad oggi e punto per punto viene spiegato come è stata in qualche modo portata a termine. È una normativa complessa, articolata, siamo una società altamente vigilata da diversi organismi e pertanto rientra ai nostri compiti e lo facciamo evidentemente giornalmente nel cercare di rendere sempre aderente gli atti della società alle normative che mutano anche nel tempo e in questo caso su questa materia anche abbastanza velocemente e frequentemente. Si è parlato di inadempimenti e di in qualche modo un coinvolgimento dell'ANAC e poi è stato spiegato proprio quello che è attualmente il dispositivo in corso e soprattutto quando si parla di contratti con vettori Saga ha spiegato punto per punto come sono in essere. Per quanto riguarda il rapporto con l'ANAC la società non ha mai ricevuto delle lettere nelle quali ci veniva comunicato in inadempimento. Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione ci sono le linee guida del Ministero che chiaramente citano il fatto che non vi è alcun obbligo di pubblicazione dei contratti. Vi è stato per un certo periodo dal 2 ottobre del 2014 fino all'11 agosto del 2016 la richiesta di pubblicazione degli effetti degli incentivi ma in quel periodo la Saga non ha sottoscritto alcun accordo con alcun vettore pertanto è per questo motivo che non ha dovuto pubblicare alcun elemento. Con le nuove linee guida dell'11 agosto 2016 il Ministero dei Trasporti ha chiaramente indicato che tutti quegli accordi che rispettano il test dell'operatore privato non sono aiuti di Stato e quindi non hanno alcun obbligo di comunicazione o di pubblicazione.